Carla Panzino, Assessore per le politiche al disagio giovanile del Comune di Pescara, per parlare di questa tematica appunto, lo sfruttamento minorile, purtroppo una realtà ancora in vita in tante parti d'Italia e non solo in Italia. Sì, i dati ufficiali parlano di 144.000 bambini in Italia al di sotto dei 14 anni che sono sfruttati, non solo per il lavoro ma anche per altri scopi. Questa iniziativa invece attraverso la storia vera di un bambino ucciso dalla mafia che voleva proteggere l'indegno mercato dei ragazzi per la fabbricazione dei tappeti, la tessitura dei tappeti, vuole forse dare un segnale ai ragazzi e ai nostri adolescenti di quanto sia importante la scuola, di quanto la conoscenza e lo studio possano far affermare, aiutarci ad affermare i nostri diritti. Solo conoscendo quali sono i nostri diritti potremo poi farli valere ed evitare anche che qualcuno possa pensare di sfruttare i nostri ragazzi. Ha avuto tanto successo questo film, 800 ragazzi hanno riempito la sala del Cinema Circus ed è doveroso ringraziare tutte le scuole che hanno voluto partecipare. Ci sarà poi un concorso con un elaborato scritto che verrà premiato in concomitanza con la giornata dei diritti dell'infanzia. Saranno premiati tutti i ragazzi con un attestato di merito perché la liberazione, l'applauso che c'è stato in alcuni momenti della proiezione del film ci ha fatto capire che questo film è arrivato al cuore dei ragazzi e sicuramente quando poi lo metabolizzeranno riusciranno anche a capire l'importanza e qual è il messaggio che l'amministrazione vuole mandare ai ragazzi. Studiate, seguite perché la vita si impara tra i banchi di scuola attraverso la conoscenza, lo studio, l'applicazione e non solo, anche attraverso la famiglia, ma laddove la famiglia alle volte può essere latente subentra l'amministrazione che con l'istituzione delle scuole riesce a far capire ai ragazzi quanto sia importante conoscere e sapere, proprio per evitare questo sfruttamento, questo abuso che si fa tuttora dei ragazzi. Roberto Renzetti, assessore per la pubblica istruzione del Comune di Pescara, questo progetto contro lo sfruttamento del lavoro minorile e il lancio di questo film Iqbal affidato tra l'altro ad una nota regista come Cinzia TH Torri. Certamente sì, noi come assessorato alla pubblica istruzione abbiamo aderito veramente con entusiasmo a questa iniziativa del collega Pansino in quanto a parte la regista famosa ma anche il tema che viene toccato nel film e che noi intendiamo quindi veicolare come messaggio nelle scuole è di estrema importanza. Il problema dello sfruttamento minorile che non è un qualcosa che avviene solo, ahimè, in paesi così lontani ma anche in zone molto vicine, anche nella nostra città, insomma si assistono a situazioni. Noi vogliamo con questa iniziativa rendere e comunque rendere anche più sensibili i ragazzi, la gioventù, dimostrare loro che l'impegno nella scuola, l'impegno nello studio è sicuramente un elemento importante per combattere e per sconfiggere queste disgrazie sociali che ci affliggono ma soprattutto un messaggio che è emerso dal film e che mi auguro rimanga anche nelle menti degli studenti è che il credere fermamente in dei valori, il credere infermamente in quello che si fa e con un impegno spesso e volentieri paga e si riesce nell'intento.